10 5 4 3 2 1 vai 40 al muro sinistra 2 più 50 alla cancellata destra 2 corta in sinistra 3 40 sinistra 4 corta in destra 3 meno 3 meno 30 sinistra 4 meno 50 al palo destra 5 corta in destra 5 60 al palo destra 4 meno corta destra 4 meno corta a fine d'osso sinistra 4 corta 20 su d'osso attenzione destra 4 scende destra 4 scende 40 al palo c'è una destra per sinistra 4 corta subito destra 3 meno sporca 40 40 al palo destra 3 più 60 60 destra 3 più corta al muro destra 5 corta 70 alla cancellata nel fondo accenno destra subito sinistra 4 meno accenno destra subito sinistra 4 meno 30 tosso dritto al rosso sinistra 4 attenzione alla siepe stacca sinistra 2 scende 40 al palo sinistra 4 diventa 3 stacca subito destra 2 30 stacca sinistra 2 sporca occhio per bivio sinistra 2 sporca 40 tuttosso accenno destra per accenno destra a fine re sinistra 4 60 al rosso destra 4 per sinistra 4 meno 30 tosso vai accenno sinistra per sinistra 4 al palo destra 4 30 ci siamo salto stacca inversione destra di leva intorno alla chiesa inversione destra di leva intorno alla chiesa subito sinistra 2 vai tutto 30 al palo sinistra 4 60 sconnessi sta in sinistra dosso in sinistra 4 40 al palo sinistra 4 tu dosso vai 50 allo stop stacca inversione destra al palo destra 3 no per tornante a sinistra 40 destra 3 al cartello accenno sinistra destra 3 qua al cartello accenno sinistra indestra 4 corta 30 stacca sinistra 2 sporca stacca sinistra 2 sporca destra 4 in sinistra 4 quarta accenno sinistra su fine per destra 4 asia 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 Grazie a tutti.